Un saluto a Presidente Rossi, un saluto a tutti voi, sarò veramente veloce. Per esprimere alcune brevissime considerazioni, ovviamente non parlerò della questione veneta, di tutte le partite che abbiamo in Veneto, lo faccio con alto senso di responsabilità e in modo tale che ne esca un messaggio univoco, però alcune riflessioni voglio fare. La prima, direi che è fondamentale che non si imbocchi la via che hanno imboccato le province e quindi che nasca di fatto il sindacato delle regioni, perché lì fuori è facile fare il populismo ed è altrettanto facile, alla luce anche di un progresso che le regioni hanno, che è un progresso vergognoso di spese, di sprechi e anche di molte indagini che sono ancora in corso, è altrettanto vero che il cittadino è attratto da queste partite. Quindi io intervengo pensando che, molto probabilmente sarà anche l'ultima volta che interverrò, perché se l'Assemblea ha quel senso è bene non farle. Quindi parliamo del disegno di legge, parlo di un disegno che mi ha inquietato. Vorrei dire, cari colleghi, che se si legge con attenzione a quel disegno di legge, vi sono delle cose positive. Il Presidente Rossi prima le confermava, ad esempio il tema della revisione di quello che è la riforma del Senato delle Autonomie e delle Regioni, o chiamatelo come volete. Sicuramente è una riforma virtuosa che dà a noi visibilità e operatività, poi dovremmo capire anche quanta operatività. È altrettanto vero che se volessimo essere più realisti da re, potremmo anche chiedere, avanzare una richiesta che va un po' più in là e chiedere che si abbia anche il coraggio di mettere le mani sulla Camera e quindi pensare che se si vogliono fare le riforme sul serio le facciano fino in fondo. Primo aspetto. Il secondo aspetto è che da quel disegno di legge non ne viene fuori uno spirito federalista, perché noi sappiamo benissimo che tutte le realtà dove il federalismo ha avuto successo riconoscono una realtà intermedia che è identificabile nella Regione. Il vero livello intermedio di governo è rappresentato dalla Regione. Del resto il federalismo unisce i Paesi, il centralismo li disgrega ed è esattamente quello che sta accadendo in questo momento. Quindi in quel disegno di legge io non ci intravedo la volontà di dare fiato e ossigeno a questo livello di governo intermedio fondamentale per una visione federalista dell'organizzazione dello Stato. Senza citare la Costituzione, io penso che sia fondamentale chiarire innanzitutto questo, il ruolo che vorremmo dare alle Regioni. Ha ragione il Presidente Rossi quando dice nella sua relazione siano chiare le competenze, non siano più concorrenti e siano ed esclusive. Quindi una battaglia la dovremmo fare rispetto a questo. L'altro aspetto fondamentale è la parte finale di quel disegno di legge ed ho chiuso, Presidente, che è quello della riforma del titolo quinto. Dal governo esce un progetto nel quale sostanzialmente si dice le Regioni debbono sparire. Punto. C'è altro da aggiungere. Non c'è un minimo cenno all'autonomia differenziata. Noi abbiamo avuto nella nostra Regione rappresentanti del governo che addirittura ci hanno rimproverato di non avere mai fatto le richieste. In questi ultimi dieci anni non abbiamo chiesto lo Statuto Speciale, chiederemo l'indipendenza, abbiamo chiesto l'applicazione del 116, del 117, del 119. Non è mai arrivato nulla. Penso che anche il tema dell'autonomia differenziata sia un tema che comunque debba essere affrontato. Non aggiungo altro, se non quello di chiudere con un'ultima riflessione, poi mi zittisco. Citavo il passaggio prima al Presidente Rossi, che è momentaneamente distratto, che è quello sul neomunicipalismo, che è una brutta parola. Però la guerra tra poveri ha sempre dato dei buoni effetti nella riforma. È bene chiarire da subito anche un'intesa, un rapporto che sia chiaro e anche solidale con l'Anci. Perché altrimenti si va veramente fino allo scontro e chi gode di questo scontro poi sarà chi ha un disegno assolutamente centralista che non è a favore delle ragioni. Grazie.